Notave, denunciati tre francesi e due russi sull'auto fermata in Val Susa dai carabinieri avevano maschere antigas e una tannica di benzina. Ora chiudo, annuncio un imprenditore preso di mira. Buona domenica dal telegiornale del Piemonte. Altre cinque denunce per i disordini al cantiere Notave. Riguardano tre giovani francesi e due russi. Intanto un imprenditore che in passato aveva già dichiarato fallimento di una sua impresa dice per colpa dei continui danneggiamenti dovrò chiudere. Una trivella bruciata, tutt'attorno i segni dell'attacco portato l'altra notte al cantiere della Tav. Il titolare dell'impresa che ha subito i danni dice così non si può andare avanti. Entro pochi giorni dovrò chiudere, gli operai resteranno senza lavoro. Da fonti Notave arrivano invece le voci di un tentativo di speculazione ai danni dell'assicurazione. Due anni fa lo stesso imprenditore aveva dichiarato il fallimento della sua ditta e poi aveva riottenuto i lavori con un'omonima impresa intestata alla moglie. Intanto la scorsa notte cinque nuove denunce riguardano tre francesi e due russi. Sulla loro auto avevano dieci maschere antigas, una tannica di benzina, imbuti, torce, occhiali protettivi e una bomboletta spray urticante. I carabinieri di Chivasso li hanno fermati in Valle di Susa. Restano invece in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto Davide Forgione e Paolo Rossi. Di fronte ai PM torinesi Padalino e Rinaudo i due non hanno risposto. Anch'essi sull'auto avevano bottiglie di benzina, maschere antigas, cesoie, fionde. Una scoperta che ha nuovamente indotto il procuratore Caselli a mettere in allarme quanti sottovalutano la violenza attorno al cantiere della TAV. Sui razzi sequestrati gli inquirenti hanno disposto una perizia balistica per stabilirne l'effettiva pericolosità.